Utilizzo della macchina in cantiere La macchina deve essere spinta nell'area di destinazione, posizionata di conseguenza e il freno o i freni delle ruote orientabili innestati. Assicurarsi che il salvataggio sia possibile da questa posizione. Verificare che la macchina sia a livello. Guarda in alto e intorno, in particolare controllando i pericoli in alto e nelle immediate vicinanze, comprese altre apparecchiature. Entra nella piattaforma e solleva la macchina fino all'altezza di lavoro.